Han sentito dei rumori, sentito dei rumori esterni e il mio genere ha sentito dei rumori esterni e è andato a vedere. Prima la mia figliola era uscita con la bambina a depositare l'immondizia, per cui è stata una situazione che ha creato un po' di apprezzione a tutti. Probabilmente pensavano di poter agire indisturbati approfittando dell'assenza dei proprietari e far così in man bassa, ma invece sono stati notati e a quel punto ai ladri non è rimasta che la fuga, un tentato furto nel cuore del centro storico Aretino. Nelle mire dei banditi è finita la casa dell'ex primo cittadino di Arezzo ed ex membro del CSM Giuseppe Fanfani e quella della figlia Laura, entrambe in via Garibaldi. Stamato sera io ero in casa, era in casa anche mia figlia nella casa accanto alla mia, verso le 8.20 sono stato avvertito dal mio genero che c'era stato un tentativo di furto, comunque un'intromissione diciamo nel giardino a pochi passi da loro dove mangiavano. In azione ancora una volta dei veri e propri ladri acrobati. I banditi infatti per poter arrivare al giardino dell'ex sindaco di Arezzo hanno dovuto prima scavalcare questo muro alto ben a due metri e poi alcune recinzioni. Questi erano già stati nei giardini e avevano operato un furto al secondo piano di un'abitazione che si affaccia sempre in quei giardini, quindi non erano di passaggio. I banditi alla fine si sono dati alla fuga, hanno raggiunto la loro auto e si sono dileguati nella notte. Un colpo dunque fortunatamente fallito ma che lascia comunque l'amaro in bocca. Quando uno ha i bambini piccini la prensione sale enormemente perché non sai mai come reagisci. E qualsiasi tipo di reazione che si possa immaginare o giudicare a freddo successivamente io credo che sia ampiamente giustificata.